Buonasera e benvenuti alle 20 e 46, non alle 8 e mezza e a 8 e mezzo, ma insomma l'incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo. Buonasera e benvenuto Corrado Augias, giornalista e scrittore. Buonasera e benvenuta Paola Caridi, giornalista esperta di Medio Oriente. Buonasera Monica Guerzoni, giornalista politica del Corriere della Sera e buonasera Vittorio di Trapani, segretario della Federazione Nazionale della Stampa. Naturalmente partiremo e vi aggiorneremo sulle ultime da Israele e da Gaza. Sono ore di speranza, di angoscia. Si farà questo accordo di tregua, di pace, subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Comincio con te, che sei una grande esperta di Medio Oriente e di Hamas, perché Hamas in serata ha accettato questo cessate il fuoco, questo accordo con Israele, ma Israele dice che si tratta di una trappola, di un trucco, che l'esercito israeliano ha detto poco fa che loro continuano a preparare l'operazione di terra a Rafa e che comunque per il momento anche gli americani studiano quello che ha detto Hamas. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando ancora di tatticismi o stiamo parlando di un'opzione vera, seria per arrivare subito a questo cessate il fuoco. Propenderei per la seconda idea, per la seconda ipotesi, nel senso che il tempo stringe, ma stringe per tutti, stringe per Hamas perché l'attacco di Rafa è veramente dietro l'angolo. Stringe per la pressione degli americani che questa volta hanno un serio problema, Joe Biden ha un serio problema per le primarie, per questo ha anche questa idea del cessate il fuoco che dura almeno 40 giorni perché si arriva fino all'estate piena, quindi alle primarie. Perché c'è un problema dei campus americani. Esatto, dei campus americani e il numero 2 di Hamas ha detto poco fa che Biden, il presidente americano in persona, ha garantito che questo accordo si farà. E questo la dice lunga, sia per la politica interna americana, sia perché a parlare è Khalil Al-Hayat, che è una delle persone che forse si sentono meno nominare, ma che è uno dei dirigenti di Hamas che ha più peso anche verso Yahya Sinwara Gaza, e perché Khalil Al-Hayat è quel dirigente di Hamas che pochi giorni fa aveva detto noi siamo disposti a smilitarizzarci se si fanno realmente i due stati, che è stata una cosa che ha suscitato scalpore, anche se l'aveva già scritto nel 2017. Bisogna prenderli sul serio questa volta. Secondo me sì, perché stavolta sono a parlare solo sia il numero 1, Hanie, sia il numero 2, diciamo il numero 2, e perché in genere, per quanto ho studiato, quando Hamas dice una cosa così netta vuol dire che ha preso quella posizione anche consultando non proprio la sua base, ma consultando almeno i quadri. Corrado Augias, intanto mentre vi stiamo parlando sono in corso intensi ride israeliani su Rafa, appunto la parte più a sud di Gaza, dove gli israeliani vorrebbero entrare e fare l'ultima grande operazione militare dentro Gaza. Io parto, Corrado Augias, dal suo libro che troveremo domani nelle librerie, perché il titolo La vita si impara ed è pubblicato con Einaudi, perché in questa autobiografia lei si definisce figlio della guerra e non solo perché è nato nel 1935. Allora intanto su Israele e su quello che sta succedendo in queste ore, lei cosa pensa? che Israele potrà mai accettare un accordo con Hamas? Che cosa? Anche perché lei è di madre ebraica, no? Di famiglia. No, mia madre veramente era una cattolica convinta, era mia nonna che aveva fatto il passaggio per matrimonio, perché doveva sposare un cristiano e si era convertita a cristianessimo. Insomma, e poi lei segue da sempre quello che succede in Israele, è stato nei tibuzzi, eccetera. Io condivido quello che ha detto la nostra collega, ma con lei ha parlato di Hamas, è possibile che Hamas su quella bozza si sia sbilanciata? Hanno parlato il numero uno e il numero due, ma non sappiamo quello che ha detto Israele. Questa è la cosa, perché Israele, l'ultima cosa che ho letto è che sta studiando la bozza, che deve essere, correggetemi se sbaglio, complicatissima, perché è piena di dettagli e quindi è uno studio che avviene non soltanto con meticolosità, ma tra due parti che si odiano, diffidano l'una dell'altra, hanno una carica di risentimento recente per i morti che ancora ieri e oggi ci sono stati e dunque non è per niente detto che questo esame vada a buon fine. Tra l'altro, Adedi, adesso la notizia che Netanyahu, il premier israeliano, riunirà il suo gabinetto di guerra probabilmente tra poco. Quindi vuol dire che comunque questo annuncio di Hamas le reazioni le sta scatenando e soprattutto le pressioni americane, credo. Voglio sentire un attimo Monica Guersoni, perché quanto è importante per i governi europei e quindi anche per quello italiano che si fermi la carneficina a Gaza, perché ricordiamo ci sono ancora ostaggi nelle mani di Hamas presi durante il massacro del 7 ottobre, però dal 7 ottobre le vittime palestinesi sono ormai oltre 35 mila e sono per la seconda maggioranza civili. Ci sono anche 70 mila feriti e c'è una situazione impressionante e insostenibile per la popolazione, città distrutte che saranno ricostruite in decenni. Ovviamente per i leader europei è fondamentale perché l'Europa è esposta su due fronti di guerra. Abbiamo la guerra in Ucraina da due anni e adesso sei mesi il fronte medio orientale. Chiaramente i leader europei hanno invocato la tregua, all'inizio non erano per il cessato del fuoco perché muovendosi in scia con gli Stati Uniti ovviamente hanno dovuto seguire un po' tutte le tappe di avvicinamento a questa speranza di tregua che ha un po' imposto Netanyahu in questi tremendi mesi. Giorgia Meloni anche ha fatto del suo, nel senso che è andata due volte in Egitto, è andata a caldo dopo la strage del 7 ottobre in Israele, è stata in Libano, ha invocato la tregua, ma alla fine diciamo che sia l'Europa che l'Italia, che tutti i singoli paesi europei possono fare poco se non mandare aiuti, quello che l'Italia ha fatto, cibo e medicine, promettere aiuti e anche darne le nostre strutture ospedaliere, ma insomma purtroppo è poca cosa. Vittorio Di Trapani, siccome tu sei il presidente dell'FNSI, quindi del sindacato nazionale di tutti i giornalisti italiani e tra l'altro oggi c'è stato lo sciopero dei giornalisti Rai, ne parliamo subito, però siccome Israele ha deciso di chiudere le operazioni di Al Jazeera in Israele, quindi Al Jazeera continua a trasmettere dai territori occupati, da Gaza e dalla Cisgiordania, ma non più da Israele. Mattarella oggi all'ONU è intervenuto anche sull'importanza della libertà dell'informazione. Quando si spegne una voce, gli americani per esempio hanno condannato questa decisione di Tel Aviv. Quando si spegne una voce dell'informazione è sempre un qualcosa di estremamente inquietante e negativo, no? Quando si spegne una voce si spegne sempre un pezzo di democrazia e quindi è una scelta sbagliata, mi auguro che possa essere ripensata e se si dovesse davvero arrivare al cessate il fuoco, io spero che sia anche finalmente l'occasione per consentire ai giornalisti occidentali di entrare a Gaza, poter vedere che cosa è accaduto in questi mesi e poter raccontare, sempre con un pensiero alle decine di giornalisti che sono morti, che erano a Gaza. Mai così tanti in così poco tempo, no? Mai così tanti in così poco tempo e quindi più che mai oggi serve che la stampa possa entrare, andare a vedere, conoscere per poter raccontare e dare modo quindi ai cittadini tutti di farsi un'idea completa di quello che sta avvenendo in Medio Oriente. Corrado Augas, la libertà di espressione è qualche cosa che preoccupa soprattutto anche durante le guerre, no? Dove già è difficile districarsi nelle opposte propagande. E perché Israele arriva a una decisione di questo genere, come quella di chiudere Al-Zazira dentro il suo Stato, dentro il suo territorio? Si può rispondere a questa domanda solo pensando che Israele dopo il 7 ottobre si sente assediata. Israele è nata nel 1948, è nata sulla certezza che finalmente c'era un territorio inviolabile dove si poteva trovare pace, coltivazione, sicurezza, rispetto reciproco, tolleranza. Tutto questo si è via via sgretolato. Il 7 ottobre ha demolito l'ultima illusione, lo sfondamento dei confini e l'invasione nel territorio. Non si può capire l'atteggiamento neanche di Israele, neanche la determinazione feroce della risposta se non ci si rende conto di quale senso di insicurezza ha di colpo preso un intero popolo. Questo allora non è più il nostro focolare sicuro, il nostro angolo nel quale potevamo vivere tranquillamente dopo secoli di persecuzione. È una cosa psicologica. Certo, è anche il territorio peraltro che è molto piccolo, perché Israele... E allora questo spiega per certe decisioni assurde, come quella di demolire, di chiudere Al Jazeera, che è una cosa che uno Stato democratico, quale Israele è stato a lungo Stato, quale lo Stato di Israele è stato a lungo, non avrebbe mai dovuto prendere e non aveva mai preso. Oggi è in uno Stato di nevrosi collettiva forte. Una nevrosi collettiva, Paola Caridi? In parte sì, stiamo dimenticando quella parte di israeliani però che hanno espresso anche delle forti posizioni contro la chiusura di Al Jazeera. Ghideon Levi, che è uno dei maestri del giornalismo israeliano, ha detto proprio su Al Jazeera, perché viene intervistato spesso assieme ad altri colleghi, ha detto mi vergogno di essere israeliano, perché questo significa anche che sono a rischio alcune delle testate israeliane, cioè di quel giornalismo di inchiesta che per esempio ha fatto uscire almeno due scoop di quelli pesantissimi sull'uso dell'intelligenza artificiale per definire i bersagli all'interno di Gaza, gli edifici e le persone, che è una cosa che non so quanta rilevanza abbia avuto all'interno dell'opinione pubblica italiana, ma che è stata veramente un'inchiesta giornalistica pesantissima che noi, noi italiani, non abbiamo fatto. Apprezzo, di fatti, non bisogna mai dimenticare che all'interno di Israele esiste ancora una forte opinione pubblica e una stampa resistente che lotta contro questo governo ormai in preda alla paranoia. E questo ricordiamo che è un governo di destra estrema in mano ai trattodossi. che prima che scoppiassi il 7 ottobre, per credo quasi un anno, avevano protestato contro la ventilata, ormai se ne sono dimenticati tutti, ma la ventilata riforma costituzionale. Io vorrei che anche in Italia, nel caso ci fosse una ventilata riforma costituzionale, avessimo una risposta energica di quel tipo. Ecco, ci arriviamo introducendo lo sciopero, così siamo e volevo portarvi esattamente a casa in Italia. Ho capito le sue intenzioni e mi ha lanciato la balla. Di Trapani, perché oggi i giornalisti della RAI, che aderiscono al sindacato strammaggioritario Usigrai, di cui tu sei stato segretario peraltro per nove anni, hanno fatto uno sciopero nel servizio pubblico, con delle motivazioni molto forti a proposito di libertà di informazione e di libertà del servizio pubblico. E avete parlato davanti alla stampa internazionale, infatti subito dopo la vostra conferenza stampa, un quotidiano importante come il Financial Times ha fatto subito un pezzo, quindi diciamo ci distinguiamo ancora una volta anche all'estero. E tu hai detto, quello che sta succedendo non ha precedenti e che c'è un attacco ai diritti costituzionali, perché visto che il governo di destra a destra, ma non solo, dice che in RAI abbiamo sempre avuto questo tipo di occupazione, diciamo quasi militare da parte dei partiti al governo, che non c'è niente di nuovo, tant'è che Fratelli d'Italia, Meloni ha sempre chiesto un riequilibrio del servizio pubblico e anche Fratelli d'Italia oggi ha detto, insomma adesso siamo finalmente al pluralismo. Allora diciamo innanzitutto che lo sciopero è largamente riuscito, perché c'è stata un'adesione intorno all'80%, quindi smontiamo subito alcune bufale che sono andate in giro in giornata. Un'adesione intorno all'80% di uno sciopero fortemente riuscito. Poi, confermo, in realtà c'è un attacco alla libertà di stampa, ma in questo momento è in corso un attacco più ampio ai diritti e alle libertà costituzionali. C'è un attacco al diritto allo sciopero ed è stato in qualche modo sanzionato anche dal Tar che ha dato torto al ministro che ha provato a precettare chi voleva scioperare. L'ha deciso il Tar. C'è un attacco al diritto allo sciopero anche nel comunicato da parte dell'azienda che utilizza parole che io non ricordo neanche nei nove anni di segretario dell'Usigrain nei confronti di uno sciopero. Si attacca il sindacato dicendo che danneggerebbe l'azienda. Parole del genere... Che distribuite fake news... Parole del genere mai sentite. C'è un attacco più generale al diritto di critica quando studentesse e studenti scendono in piazza per esprimere il loro dissenso al di là della motivazione non è accettabile che si possa rischiare di essere manganellati. E poi vale per la libertà di stampa. Reporter Senza Frontiera ha pubblicato un dato ormai siamo nei paesi problematici siamo nei paesi insieme all'Ungheria e questo vale per la RAI il controllo del governo sulla RAI vale per l'AGI la seconda agenzia di stampa italiana proprietà dell'ENI controllata dallo Stato che potrebbe essere venduta ad un parlamentare della maggioranza di governo. Della Lega, sì. Un conflitto di interessi gigantesco e poi più generale l'attacco al giornalismo di inchiesta. Ce ne sono tanti di motivi per essere preoccupati uno di questi l'ha detto anche il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Santa Lucia oggi che ha parlato di attacco agli organi di garanzia anche per questo sabato parteciperò io direttamente in rappresentanza della federazione al congresso dell'INM. E qui ci riagganciamo Monica Guersoni dice di Trapani un attacco ai diritti e alle libertà costituzionali abbiamo un problema con diciamo il diritto di critica al governo Meloni perché abbiamo capito che Giorgia Meloni le critiche non le ama molto anzi e quindi che cosa ci racconta questo sciopero della RAI? Sicuramente c'è un problema con il dissenso a questo governo pur essendo molto forte dal punto di vista parlamentare e anche elettorale dal punto di vista dei sondaggi a un partito che è appunto Fratelli d'Italia il primo partito italiano veleggia con il vento in poppa eppure ha sicuramente un problema serio con il dissenso e soprattutto con la questione dell'egemonia culturale e cioè c'è questo senso questo bisogno di rivincita di riscossa quasi rispetto al passato per cui bisogna occupare tutto e appunto è la RAI e bisogna prendere l'AGI perché l'AGI poi diventa diciamo un'agenzia di servizi legata ai tre giornali del gruppo Angelucci che sono tutti giornali di destra c'è la questione la questione RAI è molto emblematica perché siamo di fronte a un sindacato usigrai che ha 1600 giornalisti se non sbaglio 2000 e più di 1600 aderiscono all'usigrai e poi c'è questa minoranza che ha creato questo sindacato giallo Crumi e Raggio oggi hanno fatto diremmo questo è anche opinabile perché dal loro punto di vista per carità hanno il diritto di non scioperare forse non hanno il diritto di fare il doppio turno per boicottare lo sciopero della maggioranza dei colleghi adesso questa stragrande maggioranza di giornalisti si ritrova diciamo in minoranza perché la destra al governo li fa percepire appunto li fa sentire come in minoranza dentro la RAI quando ovviamente sono stragrande maggioranza e questo con la scusa che noi siamo stati noi cioè fratelli d'Italia la destra siamo stati sempre fuori relegati peraltro non è vero Berlusconi ce lo siamo forse dimenticato Berlusconi è stato appunto Corrado Augas l'ha stupita questa reazione della stragrande maggioranza dei giornalisti in RAI e siccome lei e ne lo racconta anche nella sua autobiografia che esce domani lei è stato assunto in RAI nel 1960 e poi insomma negli ultimi anni ha sempre collaborato con il servizio pubblico adesso mi pare che anche qui sia finita questa avventura guardi ma è come sempre ecco no la mia domanda in realtà è tutto normale come sempre ho lavorato al telegiornale quando la democrazia cristiana aveva il controllo assoluto del telegiornale che tra l'altro erano solo due uno poi due poi diventati tre insomma beh non ho mai visto una cosa del genere cioè quello che raccontava prima il collega il presidente io non l'ho mai visto perché la democrazia cristiana era e qui vengo su quello che ha detto Monica Guersoni era molto più sicura del suo potere quindi si poteva permettere un atteggiamento più tranquillo nella reazione di questi attuali governanti vedo nervosismo timore vedo oddio se tutto questo dovesse finire da un momento all'altro come se avvertissero scricchioli effettivamente è questo il tema che è interessante secondo me da indagare non ci sono è vero gli scricchioli per il momento non ci sono perché gentili amici ma allora perché è così importante controllare anche il servizio pubblico beh ma scherziamo perché a lungo andare quando la crisi economica batterà perché batterà come sappiamo a cominciare dal prossimo esercizio finanziario il controllo del servizio pubblico è fondamentale quindi il racconto della realtà deve essere modulato ma lei lo vede che ogni sera il telegiornale dà notizie che intendiamoci vere non è che non sono vere l'occupazione è aumentata i giovani la disoccupazione è diminuita i giovani lavorano di più ogni sera ci sono due o tre notizie è vero o sbaglio due o tre notizie molto positive io la conosco noi la conosciamo quella tecnica sono le notizie rassicuranti che devono essere presentate per non è così la situazione purtroppo non è quella la forza della Meloni che è una politica di grande astuzia è che i problemi il problema che noi stiamo discutendo ora compreso l'esimio presidente interessa una percentuale minima della popolazione caro collega la maggior parte degli italiani vabbè insomma parlateci di cose concrete diteci gli stipendi diteci l'inflazione è quello però però non si percepisce più perché siccome adesso ci sono fonti palestinesi che dicono che gli israeliani sarebbero entrati via terra nella parte settentrionale della striscia di Gaza a Raffa e ci sono anche interruzioni delle comunicazioni e dell'energia elettrica quindi forse vedremo cosa succede sta un po' precipitando la situazione sono fasi delicatissime le fasi in cui i negoziati arrivano al punto del quasi accordo sono fasi delicatissime ci siamo dimenticati della giustizia internazionale perché l'idea dei mandati di cattura sia nei confronti di Hamas sia nei confronti di Netanyahu del ministro della difesa e del capo di state maggiore israeliano sono il convitato di pietra perché magari ci sarà l'ingresso a Raffa e poi e poi la grande questione e poi torniamo all'Italia perché siccome lei Augias prima aveva fatto un accenno alle riforme che vuole fare Giorgia Meloni a cominciare è tutto lì l'attenzione del governo è su quello il premierato la giustizia correre su quelle riforme tenere buono Salvini dargli possibilmente la la separazione e poi correre sul premier dare la corsia preferenziale come si dice al premierato il resto è secondario lei è una politica finissima la Giorgia Meloni Giorgia Meloni detta Giorgia no? detta Giorgia insomma più di altri sì ma sono riforme così importanti che non possono essere utilizzate come vessilli elettorali toccano la Costituzione in tantissimi articoli il che interessa Monica Giorgia Meloni hai ragione hai ragione Corrado infatti questo è certo attenzione perché per me che giro nelle scuole per questioni relative alla politica estera la non politica estera italiana e per le questioni della guerra in Medio Oriente invece il disagio c'è in molte persone questo disagio nei confronti dell'informazione che non è completa che non parla delle diverse sfaccettature che non fa comprendere cosa sta succedendo c'è e molti percepiscono che sta toccando anche noi cioè che questo Mediterraneo è un piccolo mare come lo è sempre stato sì io non ce l'ho anch'io vado ogni tanto nelle scuole nei licei a Roma e che impressione ha dei giovani? questa cosa non la percepisco cosa percepisce lei? no io percepisco che davanti a una platea chiamiamo di 40 ragazzi ce ne sono 4 o 5 che li vedi subito appena entri che hanno l'occhio la reazione pronta l'occhio brillante eccetera e gli altri che seguono interessati non certo a quello di cui stiamo parlando qua diciamoci almeno la guerra è più la guerra interessa di più la guerra interessa di più difatti noi stiamo parlando giustamente perché c'è questa notizia che vedremo ma non ci rendiamo conto che in Ucraina si parla dell'impiego di armi atomiche tattiche che la Russia ha detto che cominciano a testare queste armi ci stiamo abituando all'idea giorno dopo giorno che possano essere usate armi atomiche tattiche cioè locali atomiche se due anni fa ci fossero svegliati di colpo dicendo useranno l'atomica avremmo mandato a quel paese è incredibile però queste notizie qui non passano tanto attraverso il servizio pubblico purtroppo in questa fase perché da quando con la riforma del 2015 del governo Renzi credo forse di Trapani me lo sa confermare che ha portato il servizio pubblico sotto il controllo della RAI non ha tolto i partiti ma ha messo il governo dentro la RAI quindi è chiaro che è ancora più volevo dirvi che Israele dice che va avanti con l'operazione di terra a Rafa ma che manderà domani una delegazione israeliana al Cairo quindi con David Barnea il capo del Mossad e non so dove sia il capo della CIA credo che sia ancora in Egitto al Cairo o era va diciamo avanti indietro questa è la buona notizia che ci sono i servizi di intelligence di Israele e di Stati Uniti che stanno facendo quasi una politica diversa rispetto al governo Netanyahu e sono lì perché tutti sia il servizio di intelligenza israeliani sia in questo caso l'amministrazione americana vogliono che si eviti una schizofrenia in questo da una parte cercare con i servizi di mandare avanti una alternativa e dall'altra entrare con i carri armati a Rafa io vedo una follia vedo che alcuni alcuni livelli ci sono e noi stessi non guardiamo più quello che sta succedendo il livello di deumanizzazione che fa parte del negoziato però il livello di deumanizzazione è talmente alto che non ce ne rendiamo nemmeno conto e purtroppo fa parte di tutte le guerre questo purtroppo io vorrei prima di farvi vedere il punto di Paolo Pagliaro chiedere a lei Corrado Augas perché scrivere un'autobiografia? ma non è propriamente un'autobiografia sono un uomo molto anziano che ha vissuto ho avuto la fortuna di vivere in alcuni luoghi giornali televisione dove si cerca di capire come stiamo facendo qua quello che succede e allora ho cercato di raccontare l'Italia come è cambiata l'Italia da quando io l'ho scoperta da ragazzo da studente poi da studente all'università e poi in un po' di impegno politico eccetera fino a oggi ma cambiata in meglio in peggio è cambiata in meglio o in peggio come sempre succede e lì cerco di fare di raccontare e l'una e l'altra parte poi ovviamente parlando dell'Italia di come è cambiata ho parlato inevitabilmente di come sono cambiato io e parlando di come va ho parlato di che cosa mi ha fatto cambiare amicizie occasioni grandi dirigenti che ho incontrato sia nel giornalismo sia la televisione alla RAI grandi dirigenti di un tempo e l'amore l'ha fatta cambiare l'amore l'amore mi ha fatto cambiare più che l'amore è cambiato l'occhio con il quale io ho considerato le donne in generale e mia moglie mia moglie amata amatissima ormai da molti decenni perché quando io ho cominciato ad essere adulto la condizione della donna gentile Monica gentile Paola voi non lo sapete ma in Italia era deplorevole vi cito solo una cosa io ricordo nettamente quando sono cominciate ad arrivare in Italia le prime commediole americane scarti di magazzino dove si vedeva il marito col grembiolino che lavava i piatti io mi ricordo intere platee di maschi italiani scompisciarsi dalle risate tale assurda talmente assurda sembrava la cosa ecco un pochino la situazione è migliorata in Italia da questo punto è migliorata un pochino c'è molta strada da fare però vediamo ancora qualche dettaglio in più sul libro di Augias con Paolo Pagliaro guardate tecnicamente ebreo per discendenza materna battezzato e allevato in un collegio cattolico sostanzialmente ateo un bel pasticcio che Corrado Augias valutò pienamente solo verso il finire dei vent'anni chiedendosi che cosa fare decise di non decidere anzi rimosse il problema lasciando che le cose scivolassero verso un accomodamento prudente un tacito compromesso con se stesso forse è in quella non scelta il seme della curiosità che ha accompagnato Augias in tutta la sua vita di personaggio pubblico giornalista scrittore amabile conversatore e che ora viene raccontata in un volume in Audi il titolo è la vita si impara e si spiega con la convinzione che l'esistenza sia un apprendistato fatto di amicizie affetti rapporti occasioni scelte rinunce fu negli anni della prima formazione che Augias divenne un convinto sionista gli era piaciuto il saggio di Theodor Herzl lo stato ebraico per quel suo richiamo al risorgimento italiano preso quasi a modello per la visione laica e generosa del nuovo organismo che proponeva ricorda Augias che i primi pionieri andavano in Palestina per far fiorire il deserto animati da ideali progressisti mentre ora scrive si assiste sgomenti al fatto che questo paese unico nel suo genere si stia svuotando degli elementi fondamentali del proprio carattere e della propria unicità nel libro diverse pagine sono dedicate all'attualità italiana e qui dovendo proporre una sintesi ad Augias viene in soccorso l'invettiva di Carducci contro un paese in cui uomini e partiti non hanno idee o per idee si spacciano affocamenti di piccole passioni urti di piccoli interessi barbagli di piccoli vantaggi dove si baratta per genio l'abilità e per abilità qualche cosa di peggio era il 1882 dunque niente di personale bravo Paolo sempre bravissimo Paolo Pagliaro devo dire e così è venuta a tutti ancora più voglia di leggere la sua autobiografia La vita si impara pubblicato da Einaudi è vero posso dire una cosa al volo me lo dai un momento si guarda c'è un guardate scusi guardi c'è lei c'è una frase dell'attore Malkovich col quale John Malkovich dice si vive senza capire granché quando si afferra il senso della vita è ora di morire ah no ma no speriamo di no insomma in bocca al gruppo con questo nuovo libro Corrado Augas grazie di essere stato con noi grazie Paola Caridi grazie Monica Guerci grazie Vittorio Di Trapani grazie spettatrici spettatori adesso state con noi perché ci sono 100 minuti di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini l'inchiesta di questa sera è un viaggio nell'ossessione della nostra società per la perfezione dei corpi femminili quindi state con noi con questa inchiesta di Silvia Boccardi e Gregorio Romeo e noi come sempre domani 8 e mezzo arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.